Con il punteggio di 76-56 la Delfes batte San Vendemmiano ed accede alla semifinale playoff. Al prossimo turno della posto Siso nella formazione di Coach Crotti troverà la Piele Livorno che in tre gare si è sbarazzata dell'Andrea Costa Imola. In gara 4 gli Irpini hanno giocato una partita continua riuscendo a prevalere su una Rooker poco brillante e falcidata dagli infortuni. A fare la differenza oltre la prova offensiva corale con 5 uomini in doppia cifra la difesa. I bianco-verdi hanno contenuto al meglio Glutidis, primo terminale offensivo. L'idea di essere più aggressivi con i lunghi contestando i tiri del Lituano è stata vincente. Dal primo quarto la strada è stata segnata con il vantaggio avverinese di 22-15. Lo strappo è arrivato nel secondo periodo di gioco con la Delfes che è stata sempre in controllo ed è scappata anche sul più 20 per poi chiudere 47-32. Il secondo tempo ha visto Vasle e Sochi controllare ed accelerare nell'ultimo periodo tirando con alte percentuali dalla lunga distanza 11 su 22 alla fine. Soddisfatto il tecnico Alessandro Crotti nel post-gara. Abbiamo fatto una partita, una serie concreta. Non era facile dopo gara 1 avendo perso così malamente. Non è stato facile gara 2, non è stato facile gara 3 dove in entrambe le partite ci siamo trovati in grande difficoltà. Dal punto di vista tattico abbiamo sistemato difensivamente partita dopo partita quello che potevamo fare. Stasera al di là della poca energia che potevano mettere in campo loro ma penso che la chiave della partita sia stata la difesa su Gluditis dove alzando molto la difesa dei lunghi e chiaramente mettendo grande pressione su di lui l'abbiamo un po' tenuto sotto il suo standard abituale. Ha finito con due punti con percentuali bassissime ma resta pur sempre un grandissimo giocatore. Questo campionato sarebbe stato di altissimo profilo, l'avevamo già detto precedentemente, sono le prime otto delle stagioni passate e quindi diciamo che già questo primo turno di playoff era paragonabile a una semifinale playoff, parlo di livello. Adesso abbiamo Livorno, chiaramente noi vogliamo giocarcela, sappiamo di avere contro una squadra che da gennaio oggi ha perso una sola partita al derby, quindi in grande fiducia, sappiamo che sono fortissimi, sappiamo che abbiamo il fattore campo a sfavore, sappiamo che ce la possiamo giocare.